Sono solo 5 le aziende toscane tra le 12 sanitarie e le 4 ospedaliere che hanno dato corso alla legge 190 del 2012 che prevede l'istituzione, ovunque negli enti pubblici d'Italia, enti sanitari compresi, di un responsabile anticorruzione per ogni azienda. E Arezzo non è tra queste, anzi, tanto per farsi mancare tutto, sottolineano dal nuovo centrodestra in consiglio regionale, non ha neppure il responsabile della trasparenza. Il dato emerge dallo studio diffuso da Libera e Gruppo Abele che vede la Toscana attestarsi per un pelo sul livello di trasparenza medio con il minimo del punteggio di quella fascia, 34%, e Arezzo sulla stessa quota con tanto di semaforo giallo. E sì che siamo in zona Cesarini, dicono dal nuovo centrodestra, dato che il termine ultimo che la 190 fissa per ottemperarvi è il 31 gennaio 2014, tra pochissimo dunque. La cosa è saltata all'occhio al vice capogruppo del nuovo centrodestra in consiglio regionale Marco Taradas che insieme al suo presidente Alberto Magnolfi e consiglieri Agresti e Benedetti ha subito predisposto un'interrogazione all'assessorato alla salute per sapere, detto in soldoni, cosa mai si stia aspettando a dotarsi del responsabile anticorruzione in ogni dove. Anche perché, dice Taradas, la pletora di fascicoli esplorativi e non aperti dalle procure su varie asle della Toscana, da Massa a Siena stessa, da Firenze a Pistoia e via dicendo, dimostra quanto bisogno ci sia di questa figura. Per questo, oltre all'interrogazione, stiamo progettando di impegnare la Giunta ad ottemperare la legge attraverso una mozione specifica.